Buongiorno, come state? Spero bene. In questi giorni abbiamo iniziato a leggere Bereshit. Bereshit è volgarmente chiamata Genesi. Bereshit è il primo libro della Torah. I libri della Torah sono cinque, come una mano. Due mani, dieci, Yod. Una mano, E, E. Ok, sappiamo che l'alfabeto ebraico è alfanumerico. Cosa vuol dire? Che a ogni lettera corrisponde una valenza numerica. Ve la faccio vedere qui. Vedete che partiamo da Aleph fino a Tav. Se la prima lettera Aleph è 1, l'ultima è 400. Poi abbiamo le lettere finali, cioè quando una lettera cade a fine. di una parola. Allora avremo un cambio di valenza numerica nella lettera Khaf, che passa da 20 a 500. Nella lettera Mem, che passa da 40 a 600. Nella lettera Nun, che passa da 50 a 700. E dalla lettera P, che passa da 80 a 800. E Tzadeh da 90 a 900. Ci siamo? Andando invece ad analizzare i primi protagonisti che troviamo appunto in Bereshit, abbiamo Adamo e Deva, che in ebraico si chiamano, scusate il mio ebraico, sempre Adam e Chava. Quindi, come si scriverà Adamo? Adam si scriverà con Aleph, vedete? Aleph, tale, Mem finale. E il valore alfanumerico, o meglio il valore Gematria, della Gematria di Adam è 45, sintesi 9. Il valore invece di Eva è Chet, Vav, E, e quindi abbiamo 19. Poi, se andiamo a vedere più sopra, i figli di Adamo ed Eva, abbiamo Caino e Abele. Dobbiamo fare però una precisazione che, quando viene creato l'Adam, si intende uomo e donna l'ha creato. Poi, questo Adam viene separato, letteralmente si dice diviso in due parti uguali. Quindi, la traduzione della costola, scusate per gli amici filo della costola, ma è veramente, veramente sbagliata. Perché questo essere era uomo e donna, che poi viene separato. Ecco perché, per ritornare a essere simile a Dio, deve ricongiungersi la parte maschile e femminile. E diventa simile a Dio, perché lui, se si unisce, crea un altro essere, un altro individuo. Ma tornando alla parola Eva, quindi Chet, Vav, E, valore 19, ci salta subito all'occhio. Eva può essere anche formato da 18 più 1. E la parola 18 è la parola Chai, Chai, vita, vita. Ok, quindi la vita più 1, la vita più un soffio, se si pone. Perché la lettera Aleph, Aleph, rappresenta l'aria, l'elemento aria nel Sefer Yetzirah. Quindi ho la vita più l'aria. 19. Un'altra cosa che mi è, diciamo, comparsa e mi ha lasciato abbastanza perplessa è i due figli di Adamo ed Eva, Caino e Abele. Vediamo che il nome Caino è Kuf Yod Nun Finale. Nun, il suo nome avrebbe valore di Gematria 160, ma, quindi, 110, 50. Ma abbiamo detto che Nun è anche, se messo in finale, valore 700. E 700 in Gematria è una cosa non importante, importantissima. Ve la faccio vedere. Ovviamente questi sono i miei disegni, non vi impressionate. 700 è appunto la parola Sheth. Ma Sheth è anche il terzo figlio di Adamo ed Eva. Sheth, Sheth. Quindi, Shin, Tav, valore 700. 700, 700, ma che vuol dire anche la copertina, il copertio, dove c'erano proprio i due cherubini dell'arca. e Sheth, il terzo genito che Dio concede ad Adamo ed Eva, che poi dopo Adamo continua a avere figli e figli, figli e figli, nasce circonciso. e Adamo insegna a Sheth, che poi sarà un antenato di Noè e Noha, le sette leggi di Noè. Adamo conosceva le sei leggi. Poi succede una cosa molto brutta durante la vita di Adamo. Succede un omicidio. Allora insegna questa legge in più. non uccide. Non uccide. Ma tornando ai nomi Caino e Abele, Caino deriva da Cain, vuol dire agricoltore. E cosa sono gli agricoltori? Sedentari. Sedentari. Avevo letto qualcosa, ma poi mi sono informata, ho visto anche un documentario, sulla trasformazione dei primi umani sulla terra da nomadi a sedentari. E poi spiegava che le popolazioni sedentarie schiavizzarono le popolazioni nomadi. Perché la popolazione nomade non aveva le risorse diciamo garantite di un popolo sedentario che come un agricoltore, ma doveva un po' affidarsi a quello che capitava. Perché era cacciatore. Non parlo che quando l'uomo poi diventa nomade, diventa commerciante. Quello è nato poi di Maniche. Parlo proprio all'inizio, quando ci sono i cacciatori e quelli agricoltori. E un'altra coppia di cacciatore e sedentario ce l'abbiamo proprio nell'immagine di Esau che è un cacciatore e Yachov che stiamo parlando dei figli di Yitzhak che è nell'accampamento, sta nell'accampamento lui. Ma chi va fuori a cacciare è Esau. Quindi il valore di Hevel è He Vav Lamed valore 37 e anche qui 37 vedete e 36 più 1 18 per 2 due vite fanno 36 più 1 sempre quel quel soffio di 20 da 37 ma Abele è un pastore di gregi nomade mentre Caino è un agricoltore sedentario un'altra cosa che mi ha colpito il serpente NAKASH 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 guardate il serpente NAKASH è NUN CHET SHIN valore 100 358 358 358 358 state attenti eh abbiamo una parola che contiene i numeri 385 e 358 ma sono messi in un ordine diverso se serpente NAKASH è 358 l'ordine l'ordine questo 358 nella parola Shekinah che vuol dire presenza divina l'ordine è 385 che la sintesi è sempre che design l'arma ma una è usata in maniera inappropriata come nel NAKASH e l'altra una maniera veramente veramente buona e positiva che è la Shekinah la presenza divina di Hashem Baruch Hashem dai trot se vi è piaciuto mettete un like e seguitemi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.